Ben ritrovati con il telegiornale su Arezzo TV, apriamo parlando della bambina che ieri è stata raggiunta da alcuni pallini di un cacciatore, per fortuna non è rimasta gravemente ferita, ma insomma la vicenda ha destato forte preoccupazione, ovviamente non solo nella zona dove è successa ma insomma in città. E allora noi abbiamo sentito anche un esperto, un cacciatore ovviamente, Chiara Sadotti. Può succedere di sbagliare ma non si può sbagliare con un fucile in mano. È un appello al rispetto delle regole ma soprattutto alla prudenza, quello che arriva dagli esperti dopo che ad Arezzo una bambina è stata colpita da proiettili da caccia ad una guancia. È successo a Patrignone, periferia a nord della città. La bimba di tre anni stava giocando in giardino quando è stata raggiunta dai pallini. Ho sentito un gran botto e il mio figliolo che era in camera ha sentito i pallini sopra il tetto. Ha riportato fortunatamente solo una ferita superficiale alla guancia, sta già meglio e non le resteranno segni visibili. Tanta invece la paura, pochi centimetri più in là sarebbero bastati a provocare la tragedia. L'episodio è deplorevole e spiacevole, questo dispiace. Non vogliamo però che sia speculazione perché c'è un episodio, non è quello che infiscia la figura del cacciatore. A raggiungere la piccola sarebbero stati dei pallini da caccia per uccelli. Probabilmente era una caccia vagante perché la caccia da appuntamento è difficile che vada fuori dalle distanze. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti della polizia. Ci sarà anche da stabilire da che distanza dalle abitazioni sia partito il colpo. L'attiva attuale prevede dalle strade 50 metri di spalle e 150 sparando contro. Dalle abitazioni, civile abitazioni, 100 di spalle e 150 sparando contro. Fino a 80 metri il pallino arriva freddo, ma arriva. Perciò lui era una zona sui 80 metri, sicuramente è qualcosa di vero. Non si tratta naturalmente di un gesto volontario. I genitori potrebbero procedere con una denuncia per lesioni colpose. La domenica mattina è tutto uno sparare di qua, di là. Io ho un albero, sembrava che venisse la grandine. Quindi sono i pallini praticamente. Comunque, indubbiamente arriveranno freddi. Io sono d'accordo, però vicino alle case così non va bene. Attimi di paura. Questa mattina all'Oro Ciuffenna, dove uno scantinato è andato in fiamme. I vigi del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti intorno alle 8.40 in via Pellegrini. L'incendio è interessato all'intero locale che si trova al piano terra di un edificio causando l'inagibilità dell'appartamento che si trovava appunto al primo piano. Nessuno è rimasto coinvolto nel rogo, quindi nessun ferito. L'intervento si è concluso intorno alle 13. Accoltellato alla festa di compleanno. È stato operato alle scotte. Adesso è fuori pericolo. Le sue condizioni sono stabili e per il suo aggressore si attende adesso la convalida dell'arresto. Uno sguardo di troppo ad una ragazza, forse un complimento. Sarebbe questo il retroscena dell'accoltellamento di un uomo di 38 anni, trovato nella notte tra sabato e domenica, riverso in strada a Sansepolcro con ferite da Taglio. Per l'aggressione è già finito in manetto un uomo fidanzato della giovane. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, i due avrebbero trascorso assieme la serata per festeggiare proprio il compleanno della vittima. Poi la lite è sempre più accesa sino al fendente. L'uomo è stato ritrovato in via 20 Settembre. Qui è stato raggiunto dai soccorritori dell'emergenza urgenza pochi minuti prima della mezzanotte. È stato trasferito alle scotte di Siena in codice 2 con l'elicottero Pegaso. Resta in prognosi riservata ancora in pericolo di vita a causa delle due coltellate che l'hanno colpito all'improvviso. Un al torace vicino al cuore, l'altra alla milza. È stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per cercare di salvargli la vita. Resta invece in carcere l'aggressore in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Al momento l'accusa nei suoi confronti è quella di tentato omicidio. Uno scontro tra un'auto e una moto ad Arezzo si è verificato intorno alle 23.15 di ieri. In via Piero della Francesca due le persone coinvolte, un ragazzo di 19 anni e un minore che sono stati entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto un'automedica e due ambulanze, una della Croce Rossa e una della Misericordia assieme a Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. E adesso vi raccontiamo una notizia, una vicenda finita per fortuna a lieto fine, quella della piccola vittoria che ha dovuto combattere contro la SEU, il servizio. Diciamo abbiamo un po' realizzato al momento che il dottore di rianimazione ci ha detto che era fuori pericolo. torna a respirare e capisci tutto quello che era successo, insomma. Era una seconda nascita. Una seconda vittoria è venuta fuori. A distanza di quattro anni dal primo parto è venuta fuori una seconda vittoria. Nostra figlia è come se fosse nata due volte, così i genitori della piccola vittoria che ha contratto la SEU è stata poi ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze, ma ce l'ha fatta. La SEU, sindrome emolitico-uremica, è una malattia grave che insorge solitamente nei bambini e comporta la formazione di piccoli coaguli di sangue in tutto il corpo che bloccano l'apporto di sangue a organi vitali come il cervello, il cuore e i reni. La piccola vittoria, quattro anni tra pochi giorni, ha vinto questa battaglia ma una bimba calabrese di appena due anni che l'aveva contratta poco prima è morta all'ospedale Meyer di Firenze. Vittoria era in vacanza con la famiglia, all'improvviso è stata colta da un violento disturbo gastrointestinale. Forse siamo stati fortunati, non lo so, però per noi era un disturbo gastrointestinale come poteva essere in giro e chiaramente il perdurare di questo disturbo una sintomatologia piuttosto grave con varie sfaccettature ci ha portato ad andare all'ospedale. Noi siamo passati da essere in spiaggia al mare dopo quattro giorni e mezzo a essere in reanimazione. Decisiva la diagnosi ad Arezzo e poi la corsa al Meyer. Purtroppo ci hanno detto che la situazione era molto critica che il fisico era tanto debilitato e che lei piccolina non riusciva da sola il suo fisico a ricostruire tutto quello che questa malattia aveva causato. Perdita di piastrine incredibile, emoglobina bassissima, difese immunitarie azzerate, insomma tosta, tosta tanto. Lei ha lottato tanto, insomma per essere piccolina così ha fatto tutto lei. Noi bisogna dire veramente grazie al reparto di Pugliatria d'Arezzo perché sono stati veramente lungimiranti. Lungimiranti perché il dottor Martini, come ripeto, il primario avendo fatto uno studio anche su questa malattia e avendo saputo che c'era stato dei casi a luglio in Trentino aveva allertato tutto lo staff, tutti i dottori, dicendoci che potrebbe essere questa casualità e al momento che noi ci siamo presentati in pediatria e i sintomi potevano riportare alla SEU, i dottori sono mossi perfettamente nei tempi e nei modi e al momento che la diagnosi è stata quella ci hanno mandato di corsa verso il Major a Firenze. 16 giorni in terapia intensiva con il fiato e il cuore sospeso, le monoclonali e alla fine la bella notizia, vittoria, era fuori pericolo. Rimane un'esperienza che era meglio non provare assolutamente però lì hanno una marcia in più dagli OSS ai primari di pediatria e poi il contatto purtroppo con le altre famiglie che bastava uno sguardo con le altre mamme con le mascherine dentro la rianimazione per dirsi tutto insomma. Oggi la piccola è tornata a casa ma le attenzioni sono ancora molte. È tornata in sé con il suo carattere prontolona anche a iOS diceva puoi abbassare la voce che devo sentire i cartoni animati per favore quindi era tornata abbastanza nei suoi scienzi come si dice noi è a casa, dobbiamo stare un po' attenti ai contatti con l'esterno non può stare in posti pubblici pieni di persone è qua che litiga col suo fratello di sette anni e sta bene, sta bene adesso, sta bene. Una nuova opera arricchisce l'ingresso della casa di riposo Fossombroni ad Arezzo si tratta di un trittico firmato dal maestro Torquato Stefanelli che ha la funzione di raccontare la mission dello storico istituto aretino ma anche omaggiare la giostra del Saracino il dipinto vede infatti i cavalieri dei quattro quartieri protagonisti di un comune gesto di aiuto rivolto proprio alle figure bisognose appunto della nostra città. Omaggio dell'orchestra multietnica di Arezzo a Filippo Bagni e Piero Bruni i due dipendenti dell'archivio di Stato lo ricorderete, morti appunto in un incidente sul lavoro ormai cinque anni fa. L'orchestra c'è, c'è sempre stata sin dall'inizio per dare un segnale di vicinanza alla famiglia, alle famiglie e dare un segnale di importanza di essere presenti sull'attenzione al lavoro. L'orchestra multietnica di Arezzo torna in concerto nella sua città per ricordare Filippo Bagni e Piero Bruni scomparsi nel tragico incidente dell'archivio di Stato il 20 settembre 2018. La direzione regionale, musei della Toscana e l'archivio di Stato hanno infatti dedicato simbolicamente cinque giornate alla loro memoria a chiudere la rassegna all'appuntamento all'Arena Eden con l'energia musicale della formazione Aretina. Filippo e Piero cinque anni fa sono morti sono due nostri concittadini ma non sono, sono due persone, due lavoratori in realtà il lavoro dovrebbe essere un manifesto di libertà di gioia anche il lavoro è molto più proficuo e importante quando uno lo fa volentieri quando lo fa con grande fiducia verso il futuro in questo caso il futuro gli è stato tolto come tante persone che lavorano tanti operai che lavorano dalla mattina alla sera che fanno tante ore per sbagli umani o per sbagli anche meccanici voluti da qualcun altro continuano a morire. L'incasso della serata è stato devoluto in beneficenza alla misericordia di Arezzo. Poi ovviamente siamo pronti ad accogliere qualsiasi donazione di beneficenza per poi poter dare un contributo ancora più cospicuo e importante a questa associazione che comunque fa molto nel territorio. La regione toscana ha confermato il suo sostegno per la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e ha stanziato complessivamente 225 mila euro per finanziare 63 progetti presentati da enti locali o associazioni. I progetti coinvolgono tutte le province toscane e sono stati promossi appunto da associazioni, fondazioni, comuni o unione dei comuni. Tra questi proposte di valorizzazione di sentieri itinerari della memoria, progetti di natura archivistica e percorsi nelle scuole. Sono 16 progetti appunto presentati dagli enti pubblici e 47 invece quelli elaborati da associazioni e fondazioni che riceveranno un contributo tra i 2 mila e i 5 mila euro. Leonardo e la terra di Arezzo, una conferenza a Ponte Buriano sugli studi di Carlo Starnazzi per confermare ancora una volta che il ponte dietro lo sfondo della Gioconda è proprio Ponte Buriano. Sono ricordi che si fanno degli studi di Carlo Starnazzi perché ultimamente mi sembra che si erano stati un po' dimenticati, per cui si è parlato di altri ponti, per cui ho ritenuto indispensabile promuovere una conferenza con studiosi insigni. Una conferenza per approfondire gli studi del professor Carlo Starnazzi, lo studioso e storico dell'arte che per primo ipotizzò che sullo sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci vi fosse ritratto Ponte Buriano. Era uno studioso infaticabile, si portava a libri e ricerche ovunque perché oltre agli studi relativi ai paesaggi della Gioconda e della Madonna di Fusi ha cercato sempre comunque il legame di Leonardo con il territorio aretino, con la terra di Arezzo. Quindi si è dedicato a questi studi in modo appassionato e infaticabile. I suoi studi sono stati riconosciuti come rigore scientifico condotto da mio marito, dal professor Carlo Pedretti, che era stato direttore dell'Armer Center for Leonardo Studios di Los Angeles, da ancora prima Federico Zeri, poi da Martin Kemp dell'Università di Oxford. quindi credo che non ci siano a questo punto più dubbi rispetto al legame che Leonardo ha avuto con il territorio aretino, in particolar modo sul paesaggio di Leonardo, della Mona Lisa e della Madonna dei Fusi, che non può essere altro che questo di Ponte Buriano. Presente anche Massimo Ricci, curatore di una ricerca pluriennale riguardante Ponte Buriano ed il prima di individuare e spiegare la tecnologia usata per la sua costruzione. Anche per lui non c'è nessun dubbio. Per me non c'è assolutamente dubbio. Il Ponte della Gioconda è disegnato con gli archi a sesto ribassato e con i bastioni che arrivano al piano di calpestio della strada. Esattamente come il Ponte di Buriano. E non c'è altro ponte con queste caratteristiche. Adesso invece parliamo dell'albero di Lucignano, l'albero d'oro, davvero bellissimo che adesso subirà un nuovo restauro grazie ad un ritrovamento che ha dell'incredibile. Il servizio. Restituiti alla collettività alcuni importanti elementi dell'albero d'oro di Lucignano, capolavoro dell'oreficeria italiana sino ad oggi dispersi. Adesso l'albero d'oro subirà un importante restauro affidato all'opificio delle pietre dure di Firenze grazie ad un finanziamento della regione toscana. Tutto era partito appunto da un recente ritrovamento grazie alla collaborazione del nucleo Carabinieri per la tutela dei beni culturali di Firenze. Alcune importanti porzioni del cosiddetto albero d'oro colossale reriquiario considerato tra i capolavori assoluti dell'arte orafa italiana sono stati recuperati ad oltre 100 anni dal furto che risale al 1914. Ad essere rinvenute sono state ha dichiarato il comandante Mauti quattro placche in rame dorato e argento smaltato 16 ex voto in argento un tempo collocati sulla base una miniatura su pergamena e un cristallo di rocca molato. Il rinvenimento attuale obbliga appunto ad una revisione della ricomposizione realizzata negli anni 30. Nel ringraziare la regione toscana per aver deciso di finanziare l'intervento di restauro la sindaca del Lucignano Roberta Casini ha auspicato che possano riemergere le parti ancora mancanti in particolare il Cristo che domina il reliquiario. E adesso invece parliamo dell'esperienza del pendolo di Foucault che sarà replicata proprio da domani a Brescia da parte dell'Arettino Fausto Casi. Noi stiamo facendo pur essendo seduti 20 km oppure quanto facciamo in un'ora facciamo 1180 km cioè questa la città di Brescia la cattedrale queste sono le cose eclatanti che la gente sentirà volentieri perché sono sconcertanti veramente. A Brescia capitale italiana della cultura la riproduzione di una delle più celebre dimostrazioni scientifiche di tutti i tempi il pendolo di Foucault che a fine ottocento confutò per sempre ogni teoria di tipo geocentrico sarà il MUMEC il museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo con l'Università Cattolica del Sacro Cuore a replicare il famoso esperimento all'interno del Duomo nuovo di Brescia in occasione della notte europea dei ricercatori. qui siamo a 65 metri per cui anche il progetto diciamo così dell'esecutivo di tutto il pendolo della sua funzione è stato progettato e calcolato con tante più difficoltà rispetto insomma alle altezze più consone anche a vederle come occhio umano no? perché appena si vede questo attacco in cima che dal fondo della chiesa sembra un cercettino ma di fatto si tratta di un diametro di 5 metri oltre esperienza che mostra la rotazione della terra attorno al proprio asse il 14 dicembre 2006 fu realizzata all'interno del Duomo di Arezzo 3.000 persone che affollarono la cattedrale altrettanti gli studenti presenti il giorno successivo un pendolo che a Parigi viene fatto oscillare e sembra ruotare mentre in realtà è la terra sotto che ruota il pendolo rimane fermo e si deduce di dimostrare che è la terra sotto è la prima vera grande prova della rotazione terrestre il pavimento e la cattedrale si spostano in questo movimento il pendolo è svincolato dalla rotazione terrestre benvenuto a Luis 4 grammi di felicità per Babbo Eddie e mamma Giulia il piccolo è venuto alla luce ieri sera all'ospedale San Donato di Arezzo ne facciamo ovviamente le nostre felicitazioni ai neo-genitori ma anche ai neo-nonni Marco Caforio e la sua signora e siamo adesso allo sport nelle maglie dell'Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo lo skyline della nostra città è un rinnovato supporto da parte della fondazione Arezzo in Tour un rinnovato un rinnovato sostegno quello della fondazione Arezzo in Tour perché questi colori portano in giro il nome di Arezzo ormai da tanti anni sì sostanzialmente è un rinnovato impegno come dici perché abbiamo già collaborato con la SBA nel tempo con il Trofeo Guitelli con ottimi risultati direi quest'anno l'impegno da parte della fondazione maggiore più coinvolgente abbiamo come dire sfruttato fra rigolette la vittoria del campionato che consente alla SBA di andare in più territori in un territorio più ampio e portare il logo di Arezzo e l'immagine di Arezzo in regioni d'Italia dove abbiamo interesse anche noi che questo marchio arrivi e quindi li ho detto utilizziamo prima in maniera impropria fra rigolette come ambasciatori della città è stato un anno sportivo particolarmente felice quindi siamo allo stadio con lo skyline di Arezzo siamo nelle maglie della SBA con il nostro logo con lo skyline di Arezzo che peraltro è anche molto bello e quindi cerchiamo di intercettare quel turismo di natura sportiva sul quale puntiamo come in tutti gli altri settori punto informativo anche al Palaestra sì questa dico la verità l'idea di Mauro Castelli che la prima proposta fu esattamente quella poi il logo se le maglie è venuto successivamente adibiremo a corner informativo un piccolo punto nel Pala Sport dove come ha detto Mauro transitano molte persone che a volte nell'attesa della partita prima e dopo sostanzialmente non sanno cosa fare cercano si informano sulla città su dove dormire dove mangiare cosa visitare e noi lì saremo presenti con un angolo che potrà andare incontro a queste esigenze Presidente questo rinnovato supporto di Arezzo in Turo oggi insomma diventa ancora più solido perché voi siete stati diciamo investiti in maniera diciamo ufficiale proprio di ambasciatori della città e questa è una cosa a me personalmente mi rende veramente orgoglioso io che insomma amo la mia città ma penso che insomma le prove ci siano visive mi rende come dire ancora più orgoglioso anche se devo dire che l'abbiamo fatto per tutti questi anni senza avere questo riconoscimento però poi parlando con la fondazione facendo un progetto serio importante abbiamo capito benissimo che la forza numerica delle persone che arrivano al palazzetto può diventare veramente qualcosa di importante quindi il fatto di essere presente con le immagini della nostra città all'interno dell'ingresso del palasport con dei mega cartelloni dove si vedono le bellezze di Arezzo può spingere il turista fra virgolette sportivo anche a farsi un giro in città e a vedere e a soggiornare e a consumare Arezzo lo skyline di Arezzo è nelle maglie ovviamente da gioco un po' meno visibile ma questo per regolamento invece in quella dell'allenamento esplode insomma in tutti i suoi bellissimi colori esatto sì è una texture di fondo che praticamente è un quadro che abbiamo ritrovato insomma un po' vecchio ovviamente sbiadito perché per legge non possiamo fare molti colori nelle divise ma nella sovramaglia che è la maglia che serve nell'ora di riscaldamento che precede la gara sarà ben visibile la città come avete visto quindi come dire io sono ancora più orgoglioso di questo perché prima di tutto prima dello sport ho sempre pensato che insomma il nome Arezzo la città sia da tenere ben in vista insomma quindi lo abbiamo fatto ormai da più di dieci anni e questa volta abbiamo cercato di evidenziarlo con questa città storica la maglia come dicevo prima è un doppio ordito dove in modo meccanico il sudore esce all'esterno della maglia per permettere che sia una maglia super dry fit diciamo questa doppia trama è fatta da un tessuto un filo molto più sottile sulla parte interna e più grande nella parte esterna in modo appunto che esca fuori il sudore e si riesca ad ottenere la performance migliore per l'atleta a livello di sudorazione fondamentalmente è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese attenzione e arrivederci